un buon non compleanno a me a te un buon non compleanno a me a te beviamo tutti insieme una tazza di tè un buon non compleanno a me a te ehi ma abbiamo degli ospiti lì venite venite accomodatevi volete una tazza di tè prego buonissimo vero tenete come non c'è nulla no basta usare un pochino di fantasia vero fast che è buonissimo il nostro tè il tè del non compleanno e voi quando è che compite gli anni di solito mangiate qualcosa di particolare il giorno del vostro compleanno oppure fate sempre delle buonissime merende sane per esempio noi al tavolo abbiamo della frutta abbiamo frutta secca dello yogurt e sì anche un pacchettino di crackers confezionati ma potremmo anche fare un buonissimo tè insieme a delle cose fatte in casa tipo biscotti torte cucinate da mamme nonne perché no anche i papà possono cimentarci in cucina quindi vediamo di mangiare in maniera sana altrimenti ci riduciamo come la leppe mazzolina che sì è matta è vero noi siamo tutti un po matti qui però lei di più infatti una volta fece infuriare la regina di cuori proprio perché si ostinava a mangiarle le rose ma le rose non si mangiano e invece la regina si arrabbiò e disse togliatele la testa ma voi mangiate le rose per merenda noi no noi mangiamo tutto ciò che è sano quindi da oggi apriamo il campionato delle merende e vinca il migliore quindi da oggi è un po' di più Grazie.